Dopo quasi un anno dagli eventi sismici avvenuti nell'estate 2016, chi hanno inginocchiato economicamente e moralmente le regioni del centro Italia, ieri a Palazzo Chigi, si è tenuto il vertice per fare il punto sulla risposta dello Stato. Sono coinvolti 140 comuni di Umbria, Marchi, Abruzzo e Lazio, che attendono la ricostruzione. Il premier Gentiloni si è detto comunque soddisfatto degli strumenti e delle risorse estanziate per fronteggiare l'emergenza. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sulla stessa linea d'onda del governo, ha rimarcato come rispetto a terremoto del 2009 la macchina del soccorso sia stata rapidissima. A differenza del passato, continua D'Alfonso, tutta l'impalcatura normativa e amministrativa non è stata il frutto di una battaglia tra territorio e Stato centrale, ma è stata scritta a quattro mani con l'amministrazione centrale. Il governatore ha poi spiegato che i comuni abruzzesi colpiti dal sisma dell'agosto 2016 sono stati 23, per un totale di 103.000 abitanti coinvolti. Attualmente le persone assistite sono 5.300, di cui 1.400 negli alberghi. Al sisma si sono aggiunte anche le frane sismo indotte a Campi e Civitella del Tronto, con intere frazioni distrutte, per le quali, assicura il governatore, si stanno adottando soluzioni ad hoc. Si è voluto così rispondere alle polemiche delle ultime ore sui ritardi della costruzione dei moduli abitativi provvisori, che hanno visto in prima linea il sindaco di Amatrice Sergio Pirrozzi, che ha apertamente contestato l'operato della struttura commissariale guidata da Vasquerrani. Il commissario è pronto a lasciare l'incarico il prossimo 9 settembre, ma chiede ai cittadini di non abbandonare la speranza, certo che la ricostruzione ci sarà.